dai sali su che sotto qui saremo un 6 saremo vediamo noi due noi due più stati di due più quei due là dai mazza non c'è stanno manco le casse stanno due a fa c'è il cazzo vabbè sul tetto c'è la cassa almeno quello ma niente ho manco lavoro manco detto mamma mia ferma tecna cappa blu vabbè io vorrei dare uno sguardo come vediamo davanti c'erano davanti e vedo li vedo a terra qua voglio dare uno sguardo se c'è qualcosa per curarsi ah no già è l'ultato niente sbatteto fa un po di materiale cazzo è solo rotto però lo sai non non hanno l'ultimo quelli stanno c'è in alto ci fregano andrea stanno due rift lì ancora o gli andammo lì gli avevamo rift andesse ne andammo un altro qui c'è una cassa dentro dai vio scudini dai che sto tirare i granati devo andare a piegare i rift come abbiamo detto vado aspetta devo lutto acqua vieni giuliani stanno qui stanno qui andrea e manda una mano dai occhio all'amico preso dopo dai si è preso da solo con un appazzucato normale un po di materiale questo occhio andrea poi c'è uno scaroro silenziato non ti interessa eh no no guarda che stiamo in ossa la pista è tutta l'ultima sparano mi sparano da qui c'è una giampa piazzata qui c'è altro lutto per terra andrea pieno proprio seppo di roba non lo so da loro non mi sparano occhio da qua le sparano da corso la mia domanda 6 andrea faccia chi non lo stanno sopra il tetto del palazzo stava tutto bello smorgiasso ecco la cosa sta lì è sceso statico quando ecco non è solo lui a mamma mia che liscio c'è una giampa io andrea se portinamo che stavano se fai allora io non sovrò un po quindi occhio anche dietro facciamo pure sti rift qui ma vanno fuori safe tra pochissimo dietro mi sembra che non c'è nessuno sto facciando invelo a nessuno a meno che ci sia qualcuno è difficile dalla pista ma non penso ah e se ci sargono sopra sta costruzione che ci avevo qua dietro o cazzi capito ecco un lato ne vedo uno che a terra dove ha tirato qui su sta casetta del legno lo vedo dietro mazzo mi entra dentro la casa c'è una casa e con l'arte ne vengo uno che c'è i missili data via uno è atterrato c'è i missili data via è bianco è bianco colpi però uno è morto ne è rimasto uno andrea dove vanno sotto sta uno dei chiede tutti no sei ancora tutti quei tre erano uno da dietro eccolo qua 116 morti da destra mi sparano mi hanno sparato da destra andrea in corpo metti che c'è la jump eccolo lo vedo lo vedo dove? lo vedo lì no quella metterla al sicuro metterla metterla qua no lì lì va bene dai basta che sbrighi dove sta che io non lo vedo eh l'ho visto ah andrea sono due ecco sta qua sotto proprio ho alcuna a terra non cado sono due eh tranquillo vai vai non so dove sta a quell'altro sta qua serve a lui si ce l'ho ciao ma chi sei ma chi sei ciao ciao ciao